Salve a tutti, a partire da oggi insieme al professore Improta, studioso e giornalista locale parleremo delle storie nascoste di San Giorgio Acremano, tratte dal suo libro Dall'Arso a Troisi, disponibile in tutte le edicole della città ed edito da Adest dell'Equatura. Grazie mille e buona visione. Buongiorno, mi è stato chiesto di parlare del toponimo Mario Recanati, Via Mario Recanati. È un toponimo che ci fa capire come i nomi delle strade, toponimo significa nome della strada, sono legati a una storia molto spesso poco conosciuta, ma che aiuta anche a conoscere la nostra identità di cittadini che ospitano quei toponimi. Mario Recanati, ne ho parlato nel mio libro sulla toponomastica san giorgese, insieme con Marta la Greca, era un ebreo che è stato vittima delle leggi razziali, un ebreo che riuscì a guadagnare molto grazie ai suoi interessi nel campo della cinematografia, che allora era proprio all'inizio. Egli a fine Novecento ha portato il cinematografo nella galleria a Napoli, ha guadagnato molto e il ricavato di quei soldi l'ha investito a San Giorgio a Cremano, anche a San Giorgio a Cremano. Ha realizzato nella strada a lui intitolata, dove aveva la casa, una sala cinematografica intitolata appunto a lui, che fu la prima sala della provincia di Napoli. Inoltre ha realizzato una serie di costruzioni, ha comprato una villa, Villa Lietta, che si trova ancora oggi nella piazza San Pio da Pietralcina, e aveva intenzione di regalare al comune un pezzo di terra per fare una strada capace di collegare la zona di San Martino con Barra. Purtroppo le leggi razziali nel 1938 gli espropriarono la villa e tutti i suoi beni, per cui questo progetto non poteva essere realizzato. Reganati morì l'anno seguente, ma i san Giorgesi gli furono grati per questa sua attenzione e volero dedicargli una strada. Li intitolarono semplicemente però via Reganati. Ecco perché molti, anche io, in passato eravamo incerti sul significato di questo toponimo. Io sono contento, orgoglioso, insieme con il sindaco Aldoverla e la giunta di averne in 1995 deliberato il cambio del nome, anzi il completamento del nome, scrivendo via Mario Re Canati. Inoltre, qualche anno dopo, con la giunta Riccardi e grazie anche ad alcuni consiglieri che collaborarono, furono messi sotto i toponimi anche le date identificative e anche qualche elemento per far conoscere il personaggio. E quindi fu scritto anche Pioniere del Cinema a Napoli. Però non basterebbe, bisognerebbe aggiungere anche Pioniere del Cinema a San Giorgio, grande imprenditore, benefattore e vittima delle leggi razziali. Ma questo non si può scrivere in una targa, non è possibile. Però San Giorgio, oltre a questa targa, oltre al toponimo, di recente, grazie alla preside Patrizia Ferrione dell'Istituto Comprensivo Stanziale, hanno ricordato il nostro Mario Re Canati attraverso anche una cosiddetta pietra d'inciampo. Cioè hanno messo, così come si è fatto in tutta Europa, una targa di bronzo sul pavimento a distante l'ingresso della scuola per ricordare appunto Mario Re Canati. E non solo lui, sono stati ricordati anche la famiglia Cappiello, che furono vittime del nazismo nella famosa strage di Stazema. Ma di questo si potrà parlare un'altra volta. In ogni caso ricordiamo che queste leggi razziali di cui fu vittima Mario Re Canati furono l'inizio poi delle persecuzioni contro gli ebrei, l'inizio del confinamento nei campi dei lager e quindi anche l'inizio, voluto dal fascismo, della distruzione, della morte di milioni e milioni di ebrei. Noi questo a San Giorgio lo dobbiamo ricordare e ci aiuta il toponimo Re Canati, via Mario Re Canati, a ricordare tutto ciò. È un dovere che abbiamo ricordare per non dimenticare e per non far dimenticare anche tutto ciò ai nostri figli e nipoti. E la scuola può servirsi anche della toponomastica per aiutare gli studenti a comprendere il significato di questi avvenimenti. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.